Riesci a sentirmi? Ti ricordi come ti chiami? Non me ne ha fatti. Aspetti! Il colpo di pistola ha cancellato una parte precisa dei ricordi del professore. Quale parte? Tutti i ricordi degli ultimi 12 anni. Ho bisogno di qualcosa, dottoressa? No. Le cose fra noi sono cambiate. Siamo separati. Nelle tue condizioni non potresti toccare i pazienti. Tu hai capito che non devi parlare con i pazienti, vero? A loro piace. Si sentono considerati. Non potresti prescrivere cure. Non so più chi sono. Non sarò più nulla di tutto quello che ero. Sei un medico strano, sai. Sono più malato che un medico. Ispirato a una storia vera. Luca Argentelli. Doc. Nelle tue mani. Prossimamente su Rai 1.